Ciao a tutti, oggi parliamo della mielopatia degenerativa, una patologia che colpisce soprattutto i pastori tedeschi, ma anche per esempio Rhodesian Ridgeback e Luersh Korgi Pembroke. Fondamentalmente è una patologia che è molto simile alla nostra SLA ed è fondamentalmente una patologia che colpisce la sostanza bianca del midollo spinale, creando fondamentalmente una tassia lentamente progressiva e una paresi da motoneurone superiore. È una patologia che ha delle basi genetiche, infatti esiste un test genetico per verificare se il vostro cane potenzialmente potrebbe avere la mielopatia. Cerco di spiegarvi questa cosa del test genetico. Il test genetico serve per capire se il cane potrebbe avere la mielopatia, perché se è negativo, cioè se non è questa mutazione genetica, il cane non può sviluppare mielopatia. Però nel caso in cui è positivo la mielopatia non basta il test per dire che è mielopatia, cioè per fare un esempio se il vostro cane presenta i classici sintomi che ha la mielopatia degenerativa, cioè di solito sono cani che hanno una tassia, cioè barcollano sui posteriori, incrociano sui posteriori, a volte hanno la dorsoflessione delle zampe con consumo delle unghie, quindi hanno questa camminata barcollante, inizialmente poi ovviamente peggiora e si trascinano gli arti. Questo non basta se noi facciamo il test genetico a dire che quella è mielopatia. Vanno escluse tutte le diagnosi differenziali che potenzialmente potrebbero dare il medesimo quadro clinico prima di andare a verificare che prima di dire è mielopatia, quindi è una diagnosi ad esclusione. Chiaramente se il test è negativo non può essere mielopatia, perché deve esserci questa mutazione per esserci la mielopatia. La causa non si sa, si sospetta una vitaminosi, però ad oggi non si sa nulla, l'unica cosa che si sa è legata a questa mutazione, cioè che senza questa mutazione non può esserci mielopatia e se c'è la mutazione potenzialmente il cane può sviluppare mielopatia. Di solito è una patologia che può verificarsi dai 5 ai 14 anni, cioè dopo i 5 anni, però anche lì chiaramente una volta che il cane ha il quadro clinico caratteristico della mielopatia, chiaramente va ovviamente esclusa una serie di patologie, dalle parotopie tiscali ad altre patologie che possono colpire il midollo spinale e verificare chiaramente che è negativo a tutto e quindi rimane fondamentalmente la mielopatia. Quindi si eseguono ovviamente esami del sangue, radiografie, risonanze, se tutto è negativo fondamentalmente il cane risulta positivo al test genetico, molto probabilmente quella è mielopatia, quindi è una diagnosi di esclusione. Non c'è terapia, aiuta tantissimo l'esercizio fisico e la fisioterapia per prolungare la patologia, ma è come la nostra SLA, quindi è lenta e progressiva. Generalmente esistono due forme, nel pastore tedesco di solito in 6-9 mesi abbiamo questa, la patologia chiaramente, la paresi, la paraparesi si sviluppa in 6-9 mesi, mentre invece c'è una forma che colpisce invece il corgi, Pembroke, che invece sembrerebbe essere ancora più lenta e arriviamo anche a 18 mesi per capirci. A un certo punto chiaramente il cane non è più in grado di camminare, fatica ad alzarsi, proprio perché gli arti posteriori chiaramente non sono più in grado di sollevare il peso comunque di un pastore tedesco o di un Rhodesian Ridgeback che sono molto pesanti. Probabilmente anche quello fa la differenza tra il pastore tedesco e per esempio il corgi che ha una forma che ci mette un po' di più proprio perché probabilmente il corgi riesce a gestire meglio questo tipo di patologia. Ad oggi, ripeto, non c'è terapia, si consiglia ovviamente di dare delle vitamine, ma però non c'è ovviamente un miglioramento molto spesso della sintomatologia. Mentre invece la fisioterapia e l'esercizio fisico chiaramente aiutano tantissimo, quindi anche la piscina. Cercare chiaramente di evitare chiaramente che abbiamo l'atrofia poi muscolare che è ovviamente conseguenza di questa patologia degenerativa della sostanza bianca. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia inquadrato la patologia. Se avete delle curiosità scrivetele qua nei commenti. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se siete interessati a conoscere meglio il mondo della medicina veterinaria del cane e del gatto e ad avere anche qualche curiosità, come in questo caso mielopatia degenerativa. Molti vogliono il test per verificare. È utile per escludere chiaramente che il cane possa avere la mielopatia in futuro e l'ideale sarebbe escludere dalla riproduzione chi ha il gene chiaramente mutato, però non serve il test genetico per dire quella mielopatia anche se i segni clinici ci indirizzano verso quella direzione. Prima vanno escluse altre patologie. Un saluto a tutti e alla prossima!